ecco qua è l'una precisa la macchina dei vigili per via adesso assisteremo a qualcosa di super veloce come si impronta un mercatino abusivo in pochi minuti la macchina come vedete non c'è più e vediamo tutti gli uccelli a luna precisa ore 13 è andata via grazie a tutti 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 grazie a tutti